ma è un costume si dice perché vedo un sacco di vizi costi pianeti addosso ma è un costume che era nello shop forse si, 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 un altro stavo rispondi a rotto, mannaggia a me uno, due, no e poi si qua con ste moto di grossa cilindrata passano sotto il palazzo ovviamente poi tutta la roba che c'hanno in quel cazzo di carburatore sale sopra mamma mia che puzza mamma mia vabbè sto scemo io, va bene eeeh ma che è che non mi va il tasto no dai 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 tu dove stai? alla fine cioè no ho perso prima ma vaffa tiri a e vabbè cioè ma lo vedi? vabbè corra un po' di jogging signor fall guy vada vadi vadi aspetta voglio dire una cosa ma se io faccio il taunt qui no? ok ma funziona? penso di no dice proprio no 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 penso no so busco ah cioè tranquilla non è che deve essere un obbligo stanno iniziando pure a ripassare i pullman stranamente wow ma perchè la gente si butta giù? ma sono scemi c'è ho visto tipo tre giocatori che si sono buttati giù ma che fanno? eh addio no madonna lascia mi sta babbo natale ok calmi calmi non spingete vabbè allora siete scemi siete scemi ok ok scemi scemi oh nooo ma sono pazzi hanno messo le trappole qua sopra ok boh che manca oh il rullo in quanti sono caduti? siamo rimasti in cinque? seri? vada 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 siamo rimasti in cinque cioè non ci voglio credere micchia vada qua eh for mountain sennò che cazzo fai a fare hexa con i cinque solo eh nooo dai nooo dai pezzo di merda sei ok farò la stessa tattica della coda ovvero mi muovo a 20 secondi dalla fine non ne vale la pena non ne vale la pena guarda perché per un minuto e mezzo stai fermo lì e non fai niente almeno controlla dove sono sì sì no ma non mi posso muovere perché altrimenti poi va a finire che guarda sì sì l'ho visto l'ho visto però non ne vale ancora la pena capito? perché poi mi devo mettere a correre e devo sudare sette camicie se lo prendo verso i 20 secondi la coda poi magari riesco a staccarmene dalla gente vabbè che poi mi presero pure la coda a a a timer scaduto quindi figurati cioè questi adesso penseranno che io sono tipo afk o cose del genere c'è proprio le strat quelle bastarde ok ok io vedo tanto gente che si lancia sì 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 23 22 21 20 perfetto perfetto mia no mia no chi me l'ha preso 3 2 2 1 lanciate olè va bene fk tutta la vita tutta la vita ho vinto pure golden guy vinci 20 episodi vabbè il framerate comunque muore nei primi nelle prime fasi di gioco muore completamente sì sì perché c'è troppa gente a scherzo perché c'è troppa gente a scherzo c'è troppa gente in generale poi ognuno ha la tua skin ognuno ha quello quello ross è una costante per la vita sì ok Dani allora la season 4 di castlevania ti è piaciuto? bella 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 e credo da da come è finita penso che sarà fatta l'ultima oh no no ma l'hanno detto che è l'ultima la season 4 sì ma 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 poi anche se non lo dicevano comunque sia bella lascia intendere che era l'ultima però bella bella anche tante belle reference ai giochi sono state è da tua madre che non salta ross non si triggera facilmente ragazzi Sì eh wuhuu su 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 che codefazio05 aiuto no no ridente forcuto ridente forcuto dov'è? lo voglio vedere aspetta è uno vestito da da pugile e se non salta neanche uffa oh non salta eh vabbè tanto tridente forcuto è vero porca miseria niente vabbè però però siamo qualificati sì sì siamo terzo tridente forcuto no tridente 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 forcuto che nome lol no roll out no 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 aiuto aiuto moriremo tutti corra sì sì afferdo afferdo chi è che ha ferrato? ma buono nome e cognome sì sì ti vogliamo anche codice fiscale anche targa ovviamente signor cactus lei è una persona molto molto buona complimenti attenzione ok siamo secondi eh non cadere non cadere fall guy ok siamo primi taunt ho fatto il taunt oddio non credo non credo non credo non è una corsa è vero non è una corsa questa perché non è una corsa fregatene perché non è una corsa siamo primi siamo primi yeah big shot un altro survival oh no è quello della nave no è quello lì dove ti spara la roba però c'è un ascio e mezzo che prima non c'erano le altre versioni aiuto che bello le macchine che suonano ok siamo secondi perché vediamo eravamo primi perché adesso siamo secondi my controller paradossalmente i controller e i magneti sono quelli più pericolosi che se come se fossero degli arpioni no calma e no non vale così non vale così non vale così non inclinate non inclinate non inclinate sono caduta non ti preoccupare sono ancora primi no no il pianeta è caduto sopra la piattaforma il pianeta mamma mia era in pieno in tranquillo 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 però i controller che cadono e si fermano sì ma sai qual è il problema che si fa un al centro e vanno a finire contro lo lascia poi quel cadono a terra non se ne vanno quei cosi resistete ragazzi quanto manca quasi 21 qualificati si un è caduto a meno male team tail tag a questo momento della ok sono tre squadre soltanto oh mio no quattro ok a posto non solo due ne prendono allora chi vuole la mia quota chi vuole la mia quota scappate dobbiamo scappare fate muro voi in caso bravi tiro pittoresco tiro pittoresco no bastardo ma chi è causato si è buttato contro il martelletto per farsi spingere le grande 32 non tre grandi io sto parlando pure a tutti quelli che ti stanno ricordando no 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 quella cosa verde da merda vedo no peggior peggior lato di sempre cioè 44 senza coda aiuto no verde vattene via verde vattene via verde vattene via il wifi ogni volta ok coda e coda ok io ne ho una ragazzi abbiamo tutti quanti la coda tranquilli ma vaffanculo 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 esatto tranquilli correte dite vaffanculo fate quello che volete però giacca 2 1 0 qualificati la squadra per le sole è stata eliminata mamma mia mamma final round no no in co in co questa cosa ma siamo pazzi vabbè cerchiamo di trattenere gli altri alla nana manana tátimo noi quello con gravità bassa magari gli sarebbe stato più io ci prova ragazzi cipro un è già caduto per camisa perché come ha fatto non cadere quello Ok, credo che questo sia una cosa dell'addo Perché vedo uno volare Però vabbè, non mi interessa Speriamo che non siano i cheater del cazzo sul pc, eh Cioè ci mancherebbe solo quello Uno è già caduto No, scusami, scusami Non so chi era Si vede tutti quanti vestiti come pilate, quindi non lo so Oh, madonna No, regà, qua La situazione è grama È grama, è granissima, scusa No, sono caduta Scusami No, vabbè, non ti preoccupare Ma che cazzo è vero, ma ferrà sto cazzo di Asturia Ma lei, ma faccio il culo Ti ha buttato, che merda Eh, il Dick Magic Trattienilo, trattienilo È della nostra speranza Aiuto, a mio avvio anche Nobi Sei la mia unica speranza Dani Forza Dani Ci soppostiamo No, regà No, 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 no Dani Mamma Ma ho vinto Abbiamo vinto? Sì Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Mi ha sbloccato il trofeo Squad goals Squad goals Mi ha sbloccato il trofeo Grandi, grazie Mi ha bloccato due trofei Due trofei Grande, ragazzi Eh, niente Grande Dani Grande Dani Bisogna fare sempre con la squadra Skyline Stumble Eh, questo pure Se lo sapessi fare la parte di Flipper bene E quello è il problema Non la so fare Poi ho sempre terza, quarta fila Mannaggia Mai davanti Eh, questo livello per Beh, questo livello per arrivare primo è un casino Tocca arrivare primo nei Quei livelli all'inizio season Eh Quelli proprio spogli Zaccati giuro sono primo Ti giuro sono primo Dai, vai, 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 vai Dai Se non ci fosse un domani Dai Ma poi quel frame e poi No, bastardi Non usate Di Flipper Di merda No, è impossibile Cioè, sono arrivato terzo Mi sono arrivato Madonna Niente Uno su 28 Niente Addio Anche questa corsa Eh, niente No Ah, ce l'hai fatta? No Niente Però qui stai Eh, vabbè, sì Salve, candelina Quanto sei carina Se no ci provo sempre a fare il taunt Magari che ne so Ci bagga il gioco Boh, che ne so Oh Ma siamo insieme adesso, quindi No Siamo squadra Adesso Ci sei insieme a me, no? Non lo so Ti vedo con la freccia Ma non credo siamo insieme No, infatti Ma tu sei pure tu rosa Sei pure tu rosa Eh, maledetto E allora sì Quanto è fatto male, però E allora sì Siamo insieme Pure se Siamo in parti diverse No, infatti Il bottone è fatto malissimo Ma non è che è fatto Cioè, è troppo alto Per il personaggio Tu provi a A saltare No E dai Cioè, c'ero sopra Tu provi a saltare E noi Eh, vabbè Cioè, questo mi sta purbo Pulando, in pratica No, vabbè Sta stravincendo questo Ma come sta stravincendo? Allora siamo contro Eh, cinque Sì, penso siamo No Penso siamo In pratica Ci hanno Ci hanno divisi I singoli Perché io sono 11 adesso Eh, io sto 7 8 No, e allora Non abbiamo nemmeno Lo stesso punteggio Non abbiamo nemmeno Lo stesso punteggio Che cazzo E come viene calcolato Il punteggio qui Fruit Chute Dai Fruit Chute Siete bravi Io non ho capito La gente Come fa a correre Come un matto Su Fruit Chute Ah, i martelletti Alla fine Eh, vabbè Ma è follia No, non ce la farò mai No, se mi lancio con il martelletto Poi ho finito Che nemmeno mi qualifico No, no Ma come dovresti fare? Eh, tipo lasciarsi Eh, vabbò Buonanotte Buonanotte Eh, ma se riuscissi a cadere Decente Senza che una frutta Mi arriva in testa No Impossibile Impossibile Vedi, così tipo Però Impossibile Madonna Tutta sta frutta Ma chi cazzo ha avuto l'idea Di sto minicacchio Di minigioco Non mi trattenere Ma che cacchio fai? Siamo arrivati Tanto Sempre sto cazzo Di denice Pure è allentato Poi Un escaduto Un escaduto Comunque mi credi Non è tanto Il fatto di studiare Perché uno bene o male Studia sempre Ma è proprio il fatto Che devi stare Sempre con il pensiero Incollato lì E quella è la cosa Che mi scoccia Eh, lo so Non è tanto e mo ho vinto io io ma non ho capito perché siamo caduti nello stesso momento e boh perché ho vinto un mondo questo non lo so come ha deciso il gioco che avevo vinto io vabbè non importa